Ciao a tutti ragazzi, vediamo se sapete che cosa sto facendo. Sto decantando un vino. E perché mai lo sto facendo? Ho appena dedicato una diretta di mezz'ora sul perché, quando e come decantare un vino. Quindi per tutti gli approfondimenti vi consiglio di andare a vedere la diretta. L'unica cosa che vi dico è la base, cioè perché andare a decantare un vino? Che cosa vuol dire? Significa andare a separare la parte solida di un vino rosso invecchiato per tanti anni e andare a separarlo dalla parte solida. Perché naturalmente ci sono dei sedimenti e quindi per non avere dei sedimenti nel calice che non sarebbe sicuramente una cosa piacevole, si va ad utilizzare la decantazione. Quindi i sedimenti restano alla bottiglia e nel decanter viene messo il vino senza i sedimenti. Poi ci sono tantissime altre funzioni che il decanter fa, perché ovviamente il contatto con l'ossigeno è una cosa molto importante, perché naturalmente la superficie di questo decanter è molto più ampia di questa bottiglia, quindi ovviamente abbiamo un'ossigenazione maggiore. non voglio svelarvi tutto perché appunto ho messo tutto l'argomento all'interno della diretta che voi potete vedere sia su Instagram che su Facebook nei post precedenti quando trovate la foto di questa bottiglia qui, vuol dire che stiamo parlando di decantazione. Attenzione perché in realtà è uno shock per il vino, quindi state molto attenti perché magari in certi casi non serve. Ma veniamo a noi, ora che abbiamo decantato il vino, possiamo finalmente andarlo a degustare. Siamo con l'azienda Derenda, siamo nel Carso sloveno e questo qui è un Cabernet Sauvignon del 2011, perché quando noi andiamo a scegliere di decantare un vino, 99% delle volte sarà un vino rosso perché se no solitamente i depositi non ci sono e in più sarà un vino invecchiato, quindi per scelta sono andato in cantina e ho trovato questa qui, un'annata 2011, sono passati dieci anni, quindi ha avuto il suo lungo affinamento dall'annata della vendemmia, dieci anni direi, che in quel caso lì decantare un vino se rosso è un consiglio perché molto probabilmente dei sedimenti ce li ha. Comunque, vediamolo un po' più da vicino, un vino invecchiato dieci anni ha sicuramente un colore rosso rubino che non è più carichissimo, non è più super con una carica cromatica potente e soprattutto non sarà più un rosso rubino con riflessi porpora, è un rosso rubino con dei riflessi granati e una bella anche trasparenza, diciamo, perché tende a perdere proprio la forza e la carica cromatica. Però acquisisce sicuramente dal punto di vista olfattivo perché abbiamo dei profumi di frutta molto matura, in confettura, non ci sarà più la frutta croccante, quindi anche una confettura di fragola proprio scura, frutta anche scura come la mora, e poi un comparto speziato interessante, anche qui spezie scure, un po' di noce moscata, anche fiori essiccati, e una certa balsamicità, più spostato su sentori terziari, quindi note di evoluzione. Andiamo ad assaggiarlo. Questo vino qui, alla cieca, quindi senza andare a vedere le etichette, quindi l'annata, vi posso dire che è un super inganno, nel senso che, se io lo degustassi alla cieca senza sapere nulla, sicuramente, grazie alla freschezza che ha, e anche al tannino ancora presente, non che freschezza e tannino debbano totalmente sparire in un vino di, dopo dieci anni da vendemmia, assolutamente, dipenderà dal vitigno, dalla zona, e comunque, sicuramente, è un vino che alla cieca, avrei detto, avesse un paio d'anni, non so, avrei detto un 2018, probabilmente, perché è una freschezza balsamica, davvero, viva, è un vino ancora davvero molto vivo, ha una buona corrispondenza, ha un sorso, ha il tannino che ovviamente è levigato, non ha un tannino spigoloso, però ha una freschezza, balsamica, che crea una salivazione tale, che veramente, non andrei mai a dire che è un vino che ha dieci anni, Questo molto dipende anche dalla zona, siamo nel Carso sloveno, siamo in un terreno sassoso, in un terreno molto duro, dal quale nascono, e tutti i vini della linea d'Erenda, anche annate precedenti, sono caratterizzate veramente da questa freschezza, che è una spada incredibile, lui produce sia d'Arco d'Erenda, produce principalmente vini rossi, e da vitigni che sono il Merlot, il Cabernet Sauvignon e il Terrano, fa anche un uvaggio, e sono tutti vini davvero, con un comparto di durezze, quindi di parti dure, ci sono le parti morbide, che sono l'alcolicità, la glicerina, in questo caso abbiamo un alcol molto basso, di 12 gradi e mezzo, quindi non è un vino basato sull'alcol, con quelli rotondi, pesanti, strutturati, è slanciato, è fresco, è agile, non dimostra sicuramente la sua età, li porta molto bene i suoi dieci anni, e quindi deriva proprio anche dalla zona, siamo nel Carso Solveno, si sa che lì c'è un clima con poche piogge, molta bora, una buona insolazione, le uve inoltre vengono raccolte proprio manualmente, all'apice della maturazione, quindi quando sono molto mature, non è un'acidità, è una freschezza di uva acerba, è proprio perché sarà il terreno anche, che ha proprio questo timbro minerale, tra virgolette, molto forte, è un'azienda davvero piccola, viene paragonato praticamente a un garagista, d'arco d'erenda, perché ha solo un ettaro, e produce circa 4.000 bottiglie, è un'azienda che nasce nel 1996, quando è vicino ai piedi del borgo di Staglie, nel 1996, Betty e Darko d'erenda comprano il loro casolare, e nel 99, i Leviti cominciano a dare i loro primi frutti, quindi è un'azienda comunque giovane, è un'azienda piccola, è una micro aria, una microproduzione, però di elevata qualità, perché ci si mette veramente di grappolo in grappolo, a vedere tutte le attenzioni, si danno le attenzioni di grappolo in grappolo, con un ettaro si deve puntare sicuramente alla qualità, ultimo passaggio velocissimo sugli abbinamenti, perché pur avendo un vino di una certa età, ha un'acidità molto elevata, quando io mi trovo davanti a un rosso con un'acidità così viva, così vivace, adesso sa anche di sottobosco, e sa anche di caramella all'amora, è incredibile, i vini invecchiati, hanno dei cambiamenti nel ventaglio odoroso, che ogni volta che li andate ad annusare, ogni volta che li andate ad assaggiare, sicuramente troverete dei profumi diversi, degli aromi diversi anche al palato, io adesso ci sento la caramella all'amora, quelle che si mangiavano da bambini, le morsitas, comunque con un vino così fresco, con un'acidità così poco elevata, sicuramente un rosso che va a sgrassare, siamo in tema, ci stiamo avvicinando anche al Natale, per esempio questo qui con un cotechino, con delle lenticchie, con dei legumi, dei piatti di legumi, quindi anche con dei minestroni secondo me, è ottimale, dopo certo non avrei scherzo tale, che anche con un bel piatto di salumi, e dei formaggi di media stagionatura, secondo me andate proprio lisci, anche perché avendo 12 gradi e mezzo, non avendo 14 gradi, è un vino che proprio si lascia bere, molto facilmente, bene, io vi ringrazio dell'attenzione, mi raccomando, per tutte le informazioni sulla decantazione, e voilà, andatevi a vedere la diretta, mi raccomando, ciao, e alla prossima!